Per voi, esatto, per continuare. Per la famiglia, voi. E i miei tutti i paesi sono... Solo scegliere quello che più si adatta alla vostra casa. D'Artagnan, il moderno. Poi. Ciao. Due, cinquanta, quasi, quanto me è pesato. L'ora di sicurezza, vediamo poi la stanza di arena, la polizia municipale inizierà a giurato, quindi c'è il canale. E? Fata un'azione insensata. Cosa viene? Carta base. Sella di felpa, invece. Sensata, qui ad arezzo. R. Sì. Sì. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.